Riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero da una sgambata un po' qua un po' là nella Val di Sotto. E siamo sulle Alpi Italiane e più esattamente a Bormio, il quarto giorno a Bormio. Abbiamo girato la bici e ci siamo avviati sulla strada del ritorno a casa, ma vediamo un po' che sorpresa abbiamo. Negli specchietti ho visto che mi stanno raggiungendo alcuni ciclisti. Vediamo un po' chi sono, chi saranno, ed eccoli il Team Sky, il Team Sky, e vai! Mettiamoci a ruota. Loro pedalano belli rilassati e io sono abbastanza impiccato, anche perché non ho avuto il tempo di alleggerirmi, quindi sono ancora vestito da discesa per climi freddi quando oramai il clima è assai caldo. Parlano italiano, quindi andando per esclusione, sapendo che nel Team Sky di italiani ce ne sono tre, direi che sono Diego Rosa, Salvatore Puccio e il terzo però mi dà tanto l'idea di non essere Moscon, ma di essere uno preparatore tecnico. Ciao! Per ora, sebbene a fatica, riesco a rimanere a ruota. Temo quando arriveranno le salite. Insomma, a chi capita di avere tre del Team Sky che ti fanno d'aggregare? Mica male qualcosa, eh? Ai ai ai, qui ho perso la ruota. Cerchiamo di recuperare in tempo. Ok, riesco a mia ruota. Visto il tempo che sto passando col Team Sky, possiamo intitolare questo video Training with Team Sky. Travedo qualche problema perché poco più avanti c'è un tratto di salitella. Vediamo se riesco a reggere il loro ritmo. Ed entriamo nell'abitato di Aquilone. La salita è iniziata e il Team Sky sta prendendo dei metri. Ovvero, se qui siamo da Aquilone, sta prendendo il puto. Eh, e qui si perde la ruota. Ai ai ai, i metri incominciano ad essere un po' troppi. E qui si perde la ruota, andate. E qui si perde la ruota, andate. E qui siamo nel sentiero Valtellina, ovvero la ciclabile che percorre tutta la Valtellina. Da Colico fino a Borneo. Da Colico fino a Borneo. È il rischio. Buon.. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E spingiamo al massimo. Pincela giù. Sono loro? Ma certo che sono loro. Da solo sono andato a riprendere il Team Sky e che dire, alla grande, di nuovo a ruota. Il Team Sky che mi fa strada e mi guida lungo il sentiero Valtellina. Un'esperienza, devo dire, indivindicata. Unico neo di questa esperienza? E sta per finire la batteria e non mi posso certo fermare a cambiarla. Rimarrò comunque a ruota del Team Sky fino a Bormion per poi lasciarmi andare al loro lavoro di pedalata quotidiana. Peccato perché sarebbe stato bello avere il video anche di tutto il tratto che manca fino a Bormion perché purtroppo rimane solo nella mia memoria. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. Le giornate a Bormio sono finite ma arriveranno nuovi video. Ciao, alla prossima!